Professor Snorke! Cosa? Ma che sta succedendo? No! Svegli ucchi! Ma che succede? Non ne sono sicuro, ma direi proprio che stiamo viaggiando in pietro nel tempo! Nefertiti, sto arrivando! Preoccupati piuttosto di dove stiamo andando! Chissà che se non ci fermiamo al più presto, possiamo arrivare anche all'età della pietra! Evviva, si torna a casa!